anche oggi facciamo un report del lavoro nel progetto risonanze biologiche per le scuole questa volta lo facciamo con serena pesotto che ha fatto un progetto importante nell'area di pordenone dico bene esatto ciao mauro ciao a tutti allora noi ci ritroviamo qua come abbiamo fatto già le altre volte con gli altri progetti per sapere da te com'è andata come ti sei trovata cosa sono anche quei punti dove se noi decidessimo magari di fare qualcosa anche in futuro cosa pensi che potremmo migliorare fare meglio in quello che abbiamo portato con te nella zona di pordenone ti lasciamo parlare ci dici intanto che cosa come si chiama il tuo progetto e che cosa hai fatto in sostanza sì il progetto che ho portato in questa zona si chiama biologia e risonanza e si è svolto in particolare in in due canali paralleli uno è il canale di un percorso che abbiamo attivato nella nostra struttura che offre percorsi di sostegno all'istruzione parentale stelle radici ed è un percorso che abbiamo proposto a tutti gli insegnanti interni ed esterni il secondo percorso è quello all'istituto comprensivo di fiume veneto nel quale ho attivato due percorsi paralleli uno per docenti e l'altro per genitori e il titolo biologia risonanza è stato per molti è stato motivo di curiosità per tanti altri quasi di allontanamento rispetto a ma cosa c'entra tutto ciò con l'educazione e quindi qualcuno mi ha suggerito senti ma spiegaci un po meglio di cosa si trattano è stato interessante perché si è aperto si è spalancato un portone sia per i docenti che per i genitori l'affluenza è stata maggiore per quanto riguarda i docenti hanno partecipato più o meno una ventina di docenti del di tutto l'istituto che ha più o meno un collegio di 80 90 persone adesso vado sul numero insomma vado a spanne non lo so precisamente comunque insomma una buona percentuale che ha partecipato una prima parte del percorso che è stata più frontale e una seconda invece è stata un pochino più pratica e quelli che hanno partecipato alla prima hanno deciso comunque di proseguire richiedendo addirittura di fare qualcosa anche nei prossimi anni sia rispetto alla approfondimento delle delle tematiche relative alla biologia dell'apprendimento in particolare perché abbiamo trattato proprio l'aspetto del dell'esserci dell'essere disponibile ad apprendere e che è direttamente collegato al discorso relazionale quindi la capacità del docente di entrare in relazione per fare in modo che il bambino l'alunno lo studente si possa aprire al percorso di apprendimento è fondamentale e non è che ce lo siamo inventato noi io ne voi di asa ma insomma ormai è riconosciuto dalla tutta la comunità scientifica che l'aspetto relazionale se attivato in modo emotivamente forte blocca tutta l'area della corteccia prefrontale quindi l'apprendimento è praticamente impossibile e ciò significa che nessuno stile educativo in realtà funziona se manca questa base e tanto che anche il fatto che la lezione frontale spesso venga boicottata o comunque ritenuta poco valida da tutte le metodologie alternative in realtà ha poco senso rispetto a le possibilità offerte anche da una semplice relazione frontale quando c'è una buona risonanza coi ragazzi e quindi questa capacità di entrare in relazione la cosa che più mi viene da dire è stata proprio preziosa rispetto a questa esperienza è stato riportare i docenti a a questa attenzione particolare che nel corso soprattutto di questi ultimi anni è stata persa perché la maggior parte dei docenti soffre una burocratizzazione di tutto ciò che è il mondo scolastico e di tutto ciò che riguarda la didattica che si allontana sempre di più progressivamente dall'importanza della relazione dall'investire energie in questo quindi diciamo che è stato un po riportata l'attenzione a questo aspetto al di là poi delle leggi biologiche e della tematica della risonanza che in ogni caso oltre ad aver attivato l'interesse di molti tant'è che appunto hanno chiesto di poter proseguire con attività pratiche e sono 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 comunque per noi motivo di di continua ricerca e per quanto riguarda i genitori altrettanto è interessante questo noi per esempio nei nostri percorsi a stelle radici lo proponiamo ma grazie al percorso attivato attraverso di voi è risultato ancora più chiaro come sia importante offrire degli strumenti di lettura delle difficoltà dei propri dei propri ragazzi dei propri figli che spesso da qualcuno vengono visti come motivi di colpevolizzazione no è perché io non ho fatto questo perché io non sono riuscito a trasmettere colpa mia se mio figlio in realtà sono sempre prese di consapevolezza molto profonde di fronte una persona che ti propone un percorso alternativo e che ti dà una mano e ti sostiene rispetto al portarlo avanti si aprono tante possibilità proprio di recupero anche dei di studenti e di difficoltà che invece con altri protocolli diciamo che sono quelli standard che vengono utilizzati normalmente di fronte a difficoltà dei bambini sarebbero molto più lunghi ecco sarebbero percorsi sia a livello economico ma anche a livello proprio di energie da sostenere e spesso non portano a una reale soluzione perché fondamentale in questo tipo di formazione che grazie a voi ho potuto proporre è che il bambino inserito in un contesto e che quindi non agisce mai da solo e che tutto quello che è è quello che ha vissuto anche al di fuori della scuola e quindi l'ambiente familiare e il suo contesto di vita sono quelli su cui poter lavorare no e dentro cui poi si integrano altre altre approcci interessanti e altre conoscenze interessanti per esempio il discorso della biologia delle credenze di un bellissimo libro di Lipton che penso che siano strumenti fondamentali per gli insegnanti proprio per avere una una visione completamente diversa non solo personale no rispetto a se sto bene io stanno bene anche gli altri e se sono io in equilibrio posso effettivamente occuparmi di didattica ma anche rispetto al supporto che che è possibile dare agli studenti ecco spero di aver fatto una panoramica in generale sui contenuti poi ditemi voi sono qua perché tu hai detto mi dicevano che cos'è questa risonanza e questa biologia il titolo ci confonde com'era la tua risposta a questa domanda non penso che tu facessi tutto questo corollario cosa gli dicevi per fargli capire cosa stavi portando quelle cinque righe che abbiamo che abbiamo scritto nel sito e proprio in modo molto sintetico e il fatto che tutto ciò che riguarda la biologia ha a che fare con l'apprendimento perché perché l'apprendimento è una condizione di apertura no della persona una disposizione a fare entrare il nuovo e quindi questo è l'aspetto del come faccio quindi a far cioè l'aspetto che dà una una prima forma di di consapevolezza rispetto a questa tematica insomma che fa un po capire che orienta la persona che non sa di che cosa si parla parleremo proprio dicevo della possibilità di creare le condizioni adatte affinché il bambino si possa aprire e possa prendere e riguardo alla risonanza parlavo dell'importanza della relazione quindi la risonanza in termini quantistici è una risonanza che non ha niente a che fare con le energie new age nelle quali qualcuno vorrebbe catalogarci ma è una dimostrabile attività di tutti gli organi di tutti gli esseri viventi e la risonanza diciamo che anche se non viene letta e anche se non ci sono gli strumenti no per l'insegnante da un certo punto di vista poi perché anche qui possiamo aprire una discussione per leggerla è fondamentale in un percorso di apprendimento nel specifico ci puoi descrivere come hai impostato organizzato questi incontri con insegnanti e genitori sì allora i primi due incontri sono stati due incontri frontali serali con gli insegnanti e uno sulla tematica della biologia e l'altro sulla tematica della risonanza e i due successivi invece abbiamo fatto nel primo un'esperienza di risonanza legata alle modalità di ascolto e quindi alla capacità di rimanere presenti a se stessi e fare un po da specchio all'altro rispetto a sensazioni immagini e emozioni che si attivano di fronte al racconto della persona che si è di fronte un lavoro che è stato fatto a coppie nella seconda nel secondo incontro invece abbiamo fatto un cerchio di presenza che è una delle metodologie proposte nella teoria u di otto charmer alla quale voi mi avete avviato e che ho scoperto insomma tramite voi e per poter sperimentare il senso del campo ed è il campo che poi si crea anche no a livello di classe e quindi i docenti hanno potuto comprendere come tutto quello che riportavano è stato utile la persona che ha portato la sua e suo contenuto insomma quello la sua situazione da esplorare insieme agli altri per vedere uno specchio perché è stato è stato davvero interessante vedere per loro come quello che veniva riportato dagli altri rispecchiava qualcosa che davvero aveva a che fare con la loro vita e questo aspetto qui diciamo che poi è sempre così la parte pratica è sempre quella che in qualche modo quasi stupisce no perché il contenuto può razionalmente interessare ma poi quando ci si mette davvero in gioco e questa è stata la parte preziosa del percorso lì si vede si proprio sentire percepire questa questa possibilità del campo bello volevo far notare scusa l'onora volevo far notare che questo progetto che stiamo vedendo oggi è il braccio che agisce su di risonanze biologiche per le scuole che agisce su insegnanti e genitori che è una cosa che fino adesso abbiamo visto poco quindi è una cosa nuova estremamente interessante scusa leonora poi serena ci vuoi raccontare un po le quelle impressioni quelle i feedback anche a caldo no appena veniva alla fine dell'esercizio qualcosa potuto cogliere anche solo negli sguardi o anche proprio nei racconti di degli adulti perché interessante vedere le altre insegnanti che hanno lavorato con i bambini e ragazzi e tu invece che lavorato con gli adulti quindi se ci racconti un attimo questi questi feedback a caldo lì mentre stava finendo il lavoro beh per dirti una delle cose che più mi ha fatto piacere è stata questa mamma che appunto il gruppo genitori è venuta al secondo incontro dopo un mese perché poi per vari motivi abbiamo dovuto annullare un incontro e ritardarlo che ha detto non vedevo l'ora di tornare e avrei molte cose da chiedere quindi quello che proprio più mi ha stupito è stato questo bisogno di di nutrirsi di di una serie di strumenti per leggere se stessi ecco fondamentalmente quello che ho visto è stato questo bisogno di di capire qualcosa in più di sé anche al di fuori della del giudizio perché quello che quello che sento come è vissuto eh vent'anni di esperienza con soprattutto con genitori e che spesso si tende eh non a prendersi la responsabilità ma semplicemente una colpa no e quindi c'è questo vissuto di ehm potevo fare diversamente col seno di poi tutti fanno ragionamenti rispetto a ehm quello che avrebbero potuto fare eh senza essere presenti nella situazione quindi questo poi ci riporta alla tematica della dell'essere disposti a imparare qualcosa rispetto a quello che tu mi stai portando come come mi può far guardare avanti e questo orienta le energie in modo completamente diverso nello stesso tempo ehm c'è stato proprio da da parte dei docenti ehm bisogno di ehm di rimanere ancora in queste tematiche è come se quelle le ore ovviamente passavano velocissime e si è creato uno spirito di gruppo una una con un senso di condivisione molto profonda perché credo che di fondo sia la categoria genitori che quella dei docenti abbiano davvero vissuto degli anni molto impegnativi anche legati proprio a agli anni della pandemia dell'isolamento sociale e quindi tutto questo il valore aggiunto ecco di questi percorsi rispetto a un percorso in presenza di qualsiasi altro argomento e che parli proprio di quello di cui la gente vuole effettivamente parlare ecco questi feedback che hai raccontato adesso sono feedback di del lavoro all'interno della scuola parentale cioè della dell'associazione tua o sono anche feedback della scuola pubblica e se no ecco eventualmente se ci sono delle differenze di eh ricezione delle informazioni e delle esperienze tra le insegnanti e genitori nella scuola parentale e nella scuola pubblica visto che hai potuto fare tutte e due le realtà grazie di questa domanda perché io mi riferivo alla scuola pubblica e nella nei percorsi di sostegno all'istruzione parentale perché noi appunto non siamo una scuola riconosciuta ma offriamo semplicemente dei percorsi e diciamo che c'è già una piccolo ehm come un essere già entrati no in qualcosa che viene ancora tuttora percepito come alternativo a a a ciò che viene proposto proprio dalla scienza ufficiale in merito e quindi è come se si fosse già scardinata una parte di strutturazione rispetto a a questi argomenti e c'è un altro tipo chiaramente di risposta questo probabilmente lo fa anche l'ambiente no perché ormai non lo sappiamo che siamo così grazie a quello quindi eh nella nella nostra struttura stelle radici abbiamo una una stanza accogliente una stanza piccola una stanza che mette già in connessione e mentre nella struttura pubblica siamo partiti da un auditorio molto grande in cui 30 persone comunque non lo riempivano quindi c'è anche un certo tipo di campo eh che fa comunque già la sua fa il suo al suo imprinting ecco nella in come si struttura l'incontro poi è importante quello che uno sente e come uno tiene il campo eh facevo questa riflessione insieme a Paolo Renati eh rispetto a tutte le tematiche che porta sul sul campo coerente sulla coerenza del campo e rispetto alla mia esperienza nella scuola pubblica in cui io avevo venticinque alunni per classe adesso ne abbiamo sei sette nei nostri percorsi c'è una grandissima differenza nella creazione di campo ed è una cosa curiosa ma anche molto interessante più ci sono bambini più una volta che si è creato un campo davvero motivante non so durante la lettura di un albo illustrato durante un'attività in cui sono tutti presi eh quel campo è molto difficile da da sciogliere da scardinare allora l'entrata di una bidella che bussa diciamo che blocca l'attività ma appena esce c'è talmente eh ci sono tanti gli elementi di questo sistema che diciamo che il campo si ricrea immediatamente o si autosostiene mentre in un gruppo più piccolo di cinque e sei bambini eh una piccola variazione eh siccome i legami non sono così eh essendo un numero più basso non ci sono così tanti legami e non c'è un campo così coerente la coerenza viene persa prima ed è più difficile riprenderla anche crearla paradossalmente in una classe di venticinque una volta che crei il campo la lezione va quasi da sé come fosse un piccolo organismo che ha la sua sorta di intelligenza e queste considerazioni che faccio grazie proprio a tutta la le conoscenze sull'elettrodinamica quantistica e sono molto interessanti per valutare per esempio un burnout degli insegnanti insegnanti di sostegno per esempio di potenziamento che fanno delle attività con bambini singoli che sono molto più in burnout rispetto agli altri perché c'è un altro tipo di risorsa energetica da attivare per mantenere un campo e per far sì che l'apprendimento sia davvero funzionale. Abbiamo fatto comunque in merito un'altra esperienza interessante con gli insegnanti che non era interna al progetto ma sempre a che fare con quest'ambito che è la risonanza creata dagli albi illustrati e ci stiamo interrogando come gruppo di insegnanti rispetto a questi mediatori didattici chiamiamoli così a come un certo tipo di albo rispetto ad altri crea o meno un campo per esempio un albo poco strutturato gli albi illustrati sono faccio questa piccola parentesi dei libri che raccontano delle storie ma in cui c'è poco testo e c'è una presenza di immagini importante sono sempre creati da un autore e un illustratore che ha pari importanza rispetto all'autore anzi tante volte proprio l'immagine che fa una di un albo un bell'albo illustrato è prezioso e ci siamo interrogati su quanto un albo poco strutturato spesso permetta sempre chiaramente questa una percezione molto personale collettiva rispetto al nostro piccolo gruppo quindi non ha niente di scientifico ma un utile oggetto di riflessione per gli insegnanti un albo poco strutturato per esempio a livello di immagini e anche con poco testo possa permettere di creare un campo molto più forte e molto più coinvolgente perché ogni persona può metterci maggiormente del suo è come se la destrutturazione permettesse di esserci in maniera più potente questo anche nell'attività didattica avviene no l'attività frontale è molto strutturata quindi si è quasi sia un po più passivi mentre nelle attività meno strutturate dove ognuno deve metterci del suo quel suo che mette da forza al campo e poi c'è chi di questo sa darci la spiegazione scientifica e però sono tutti sono tutte riflessioni che a livello educativo risultano fondamentali che non vengono assolutamente tenuto in considerazione se non si se non questi strumenti non vengono diffusi per cui è nostra volontà anche insieme a voi e non solo fare in modo che questi messaggi arrivino a più docenti e genitori possibile all'interno di questo parteciperemo al con primo convegno di istruzione parentale organizzato da ipocrate org e all'interno di quel convegno probabilmente potremo anche condividere queste queste tematiche appunto con con docenti che parteciperanno e che sono interessati a a questi spunti per l'apprendimento l'ultima giornata che hai fatto adesso i primi di maggio che era tutta quanto una giornata intera è stata fatta e cumulativamente quindi genitori e insegnanti professionisti ed educazione insieme sì ecco lì in una giornata di lavoro come come si è svolta che cosa cioè che che spunti sono venuti fuori se ci sono delle cose particolari che sono emerse anche dalle realtà da cui provenivano genitori insegnanti che erano comunque realtà diversi che andavano a concluire insieme in una esperienza di una giornata diciamo che principalmente quello che 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 lasciano queste giornate è una grande voglia di approfondire questi contenuti per trovare delle risposte e perché la gente che viene a questi percorsi ha dal mio punto di vista una un tormento interiore per fortuna che è proprio quello di ricercare di un'insoddisfazione rispetto a quello che già c'è e nel corso del tempo questa cosa l'ho vista tantissimo in famiglie per esempio etichettate rispetto a disturbi di apprendimento di qualche tipo o una una famiglia da poco mi dice la psicologa ci ha già dato 16 sedute per il nostro bambino rispetto a un percorso da intraprendere per una particolare problematica e quindi leggere questa cosa dal punto di vista della biologia della risonanza ti fa capire di quanto siamo lontani proprio dall'essere davvero presenti all'individualità di ognuno perché nessun terapeuta si sognerebbe mai di programmare 16 sedute da qui all'eternità senza sapere davvero con chi ha a che fare altrettanto il percorso terapeutico che viene proposto solitamente nelle scuole è quello di portare il bambino dall'esperto quindi tirare fuori il bambino dal suo ambiente dove si è manifestato il problema dove c'è la difficoltà per cui la lettura che viene data rispetto a quello che emerge dal bambino per quanto siano prove o test standardizzati che mi rendo conto insomma che da qualche parte si deve andare a parare rispetto ad avere dei protocolli anche delle linee guida ma è completamente estranea a quello che accade veramente probabilmente non ci sono ancora gli strumenti adeguati per leggere la situazione però questa è un'opportunità per per questo tipo di per dare per dare una sorta di input anche da questo punto di vista come li chiamano questi ragazzi e li chiamano brutalmente dsa cioè sono disturbi specifici specifici di apprendimento e che hanno questi disturbi e che quindi hanno ci sono delle modalità diciamo dei protocolli di intervento tanto più che ci sono un sacco di novità a livello metodologico per esempio c'è un percorso che si chiama rhythmic movement training che ha a che fare con i riflessi pre natali del parto e post natali che vengono messi in atto dai bambini nel senso che già l'embrione il feto e il bambino quando nasce mette in atto dei movimenti riflessi che sono legati alla biologia e alla sopravvivenza per svariati motivi può essere che un bambino non faccia questo percorso non gli non faccia tutte le tappe per esempio non so un parto cesareo fa sì che certi tipi di movimento a livello di spalle e a livello di bacino nell'uscire nel canal uterino non vengano messi in atto questi non sono predittivi di difficoltà ma le studiose di questo metodo hanno visto che c'è una certa regolarità rispetto a se ci sono queste difficoltà e se si lavora sul recupero dei movimenti riflessi anche in età avanzata diciamo che questi movimenti la natura appunto ha un'intelligenza infinita perché questi movimenti vanno a irrorare aree specifiche a livello cerebrale e quindi poi permettono tutti tutti gli apprendimenti futuri a livello cognitivo motorio e quant'altro quindi questi disturbi di apprendimento specifici dell'età evolutiva quindi dislessia disgrafia eccetera spesso sono stati recuperati grazie all'utilizzo di questi movimenti riflessi che sono stati poi standardizzati anche questi certo in dei protocolli ma sono protocolli che funzionano nel momento in cui vengono messi in atto e si capisce qual è stato il passaggio mancante no e per cui ecco questa è un'altra metodologia interessantissima che conoscono pochi fisioterapisti osteopati in Italia ancora uno ce l'abbiamo qua in queste zone che può risolvere in poco tempo dei problemi davvero importanti perché si basa in questo caso su un lavoro legato principalmente alla biologia ma anche alla storia del bambino c'è qualcosa che pensi sarebbe potuto fare meglio qualcosa che dici la prossima volta che facciamo lo facciamo diverso allora in questo momento penso che le persone si avvicinino a a questi approcci alternativi riflettendo sul proprio vissuto grazie alla conoscenza per cui io non credo che si possa partire da altro con con gli adulti con i bambini sicuramente si può lavorare dal punto di vista pratico come hanno fatto le colleghe in modo così così bello così prezioso però quello che ultimamente ho visto nelle nelle persone adulte è che spesso la cosa difficile da fare è prendersi in mano la responsabilità della conoscenza di come funzioniamo per davvero a livello scientifico e quando le persone si avvicinano a livello razionale è come se superassero una un certo timore una certa paura di aprirsi no è stato un po una conseguenza quella di poter lavorare sul pratico anche con gli insegnanti dopo aver compreso quello che che si propone che si proponeva anche per il tipo di di uditorio insomma che che avevo davanti in quel momento nel senso che capita in certi percorsi in cui hai persone che hanno già fatto dei lavori su di sé e hanno ragionato e riflettuto sui propri percorsi di vita in questo caso mi trovavo di fronte a persone che di cui non sapevo non potevo non potevo conoscere insomma nello specifico chi avesse fatto che cosa per cui penso che per il mondo degli adulti partire da questo sia imprescindibile e poi da qui però si possono aprire molte altre strade anche nel offrire per esempio delle consulenze di questo tipo noi nelle nostre percorsi ci affidiamo a terapeuti che operano con le cinque leggi biologiche con le costellazioni familiari con il cranio sacrale e abbiamo risolto situazioni importanti di di pressioni psicologiche per questi bambini di anche di vissuti di disagio da parte dei genitori con pochissimi incontri pochissime sedute portando prima i genitori a conoscenza dell'approccio e poi loro si sono permessi di affrontarlo questo ovviamente richiede un'apertura da parte loro la disponibilità a mettersi in gioco di fondo possiamo fare ben poco se dall'altra parte non arriva questa disponibilità ecco quindi se ho capito bene quello che voi state stimolando e introducendo è proprio un modo nuovo per i genitori di aprire gli occhi no sulle problematiche che può avere il proprio figlio e i propri figli perché la maggior parte dei genitori sono abituati a portare il bambino come dicevi tu prima dallo specialista e in qualche modo affidarlo quindi in fiducia e far sì che il terapeuta risolva il problema invece da quello che ho capito voi proponete un approccio che sia proprio del campo familiare quindi che ci sia coinvolgimento dei genitori e una presa appunto di responsabilità no nei confronti di quella che è la problematica del bambino questo come viene come è stato accolto dai genitori che abituati a tutto un altro modello di di approccio come come hanno accolto questa nuova diciamo proposta e non è facile no perché questo è un po il cardine per esempio della nostra progettualità ma quello che voi proponete rispetto a questa formazione alla stessa base e perché perché un genitore dentro questo approccio deve essere disposto a mettersi in gioco molto spesso è sufficiente è stato per esempio nel nostro caso parlare con i genitori per risolvere delle difficoltà dei bambini quando il genitore si è messo nella nella condizione di apertura quello che si diceva prima no biologicamente disposto a fare entrare qualcosa di nuovo di diverso e ad integrarlo questo ha permesso di leggere anche comportamenti del figlio in un altro modo e quindi di fare delle riflessioni diverse e di cambiare la posizione nel sistema però non è semplice perché anche qui come nel discorso della salute c'è poca proattività no ma non per ripeto non per una questione di colpa per semplicemente per una questione culturale e sociale storica no siamo sempre stati abituati a delegare all'esperto di turno la situazione problematica il medico l'insegnante lo psicologo probabilmente in questo momento noi che entriamo in queste tematiche ci rendiamo conto che è fondamentale conoscere no prendersi in mano la responsabilità della propria salute della proprio percorso scolastico e questo richiede l'impegno del essere in primis coloro che apportano il cambiamento e diventa prima una presa di coscienza rispetto anche alle nostre possibilità non è vero che almeno io l'ho vissuto nella mia esperienza personale che tu non sei medico quindi non sai dipende insomma ecco dipende da dai punti di vista rispetto a che posizione abbiamo di responsabilità nella nostra vita e quindi il fondo di anche di questo tipo di percorso secondo me che propone asa è quello di riprendersi in mano la responsabilità della propria vita e i genitori lo sanno nel nostro caso no lo diciamo fin da subito che i percorsi si costruiscono anche nelle scuole pubbliche c'è un patto di corresponsabilità da qualche anno che i genitori firmano ma non contempla assolutamente questi aspetti a che fare con le sanzioni disciplinari con l'entrata in orario col fare i compiti e con le prendersi un impegno a diciamo che tutto l'aspetto emotivo relazionale a parte l'educazione rispetto viene non viene preso in considerazione non ne conosco i motivi ecco non è una critica ma semplicemente una un prendere atto che in questo momento tutta questa parte non viene non viene considerata secondo me come dovrebbe perché il bambino che arriva è un bambino che porta una storia e un percepito di un ambiente che ci dice tutto di lui dal suo comportamento al metodo di studio a quali sono le sue propensioni i suoi talenti quindi ce n'è da fare di strada per arrivare a davvero a fare in modo che la scuola sia un ambiente risonante è stata all'interno della scuola pubblica anche che ti hanno richiesto di poter fare altre cose anche nei prossimi anni è arrivata questa richiesta dagli insegnanti dai genitori da entrambi e che voglie avrebbero cioè che cosa gli interesserebbe fare se ti hanno già chiesto se hai proposto qualcosa che potrebbe essere segnato per il futuro hanno chiesto entrambe le cose la conoscenza e la parte pratica quindi rispetto a indicazioni bibliografiche ci sono video che possiamo vedere ci sono dei siti dove possiamo andare a cercare informazioni e anche ma come si potrebbe proseguire mi piacerebbe provare mettere in pratica e da entrambi da entrambi settori ecco sono arrivate queste queste esigenze di non fermarsi qui perché c'è tanta sette di questo ecco il là è stato dato da una io ho esordito proprio con i docenti rispetto alla comprensione del loro stato in questo periodo storico della loro difficoltà di portare avanti dei percorsi in cui sentano di essere risonanti perché è questo che nutre anche un'attività creativa come quella della professione docente no e quindi dentro questo imbrigliamento in cui si stanno trovando in questo periodo in cui fanno e dal loro punto di vista perdono tanto tempo in burocrazia e in protocolli che però non sentono quindi non risuonano con loro c'era prima un bisogno di agganciarsi ecco a questo a questo vissuto molto impegnativo e molto pesante e questo ha dato un po' in là a potersi permettere di sentirsi accolti anche se solo da me però è stato un bel momento per sentirsi in risonanza e potersi aprire a questi nuovi contenuti ecco ci ragiono adesso su questa cosa non ci avevo mai ragionato e quindi progetti per il futuro cosa avete in pentola stelle radici per il prossimo anno no ma più che altro progetti per il futuro ma mi chiedo rispetto a queste richieste che ti hanno fatto se avresti una fase 2 proprio per per asa una fase 2 per asa anche 3 4 5 che volendo si possono prendere tantissime direzioni secondo me e più o meno idealistiche ma da buon gemelli io ci provo sempre a volare in alto e sarebbe interessante come dicevo prima fornire una sorta di quasi un parallelismo di quello che viene già offerto come servizio di aiuto e sostegno rispetto alle difficoltà che i docenti vivono con i ragazzi e quindi in questa veste io mi sento che potrebbe essere interessante avere il ruolo non della persona che in qualche modo offre l'esplorazione del problema ma che per esempio indirizza dai professionisti anche se spesso basta semplicemente un lavoro di ascolto e poche cose chiare almeno quello che io ho vissuto quest'anno nella mia esperienza stelle radici ma in generale quello che manca ecco un altro esempio è che spesso quello che viene proposto è un lavoro sul bambino punto cioè non si lavora mai con la famiglia in questi percorsi che vengono tipo questo bambino a cui sono state proposte addirittura 16 sedute sul bambino di 5 anni tra l'altro quindi questo è un aspetto un altro aspetto interessante potrebbe essere una formazione mirata a un rappresentante per istituto perché nell'ottica di poter diffondere questo tipo di conoscenze andare verso un istituto solo è chiaro che per carità era un buon inizio e da qualche parte dovevamo pur partire per vedere anche che tipo di risposta c'è ma c'è tanta risposta e non è che perché quell'istituto ha un'identità particolare insomma ci sono tanti docenti che lavorano in vari istituti tra l'altro alcuni neanche si conoscono, sono istituti molto grandi quindi questo potrebbe essere un altro canale di lavoro interessante e comunque rimane questo aspetto di continuare a fare questa formazione anche solo a livello di contenuto perché non è poco, mi viene da dire che è quasi una sorta di umiltà rispetto al fare in modo che i tempi siano maturi per fare oltre, adesso noi questa formazione Biologia e Resonanza la proponiamo tre volte già nel giro di due mesi, questa è la terza volta da marzo ad oggi, a luglio ne facciamo tre di incontri che si intitolano Biologia e Resonanza proprio perché si diffonde, si risuona a più persone quindi la persona che ha partecipato a marzo magari poi ne parla con un'altra che verrà a giugno e a sua volta ne parlerà con... è un po' la macchia d'olio che si allarga rispetto semplicemente intanto al parlarne è molto difficile che la gente scenda tanto nel dettaglio però è già tanto che la gente si faccia delle domande in merito per esempio alla salute dei propri figli quindi penso che potrebbero esserci tante direzioni di ricerca creare anche questo gruppo che solo voi avete creato al momento di insegnanti in Italia che hanno la stessa base e hanno la stessa... non posso chiamarla credenza perché non è una credenza ma è proprio una condivisione di una Weltanschauung come dice Paolo, no? è fondamentale perché anche noi abbiamo bisogno di questo background di rette, di questa rette di persone che la pensano come noi e soprattutto di continuare a puntare su questo secondo me questa è una cosa fondamentale perché potrebbero esserci dei momenti comunque di insuccesso cioè negli incontri dei genitori io avevo pochi genitori su un bacino d'utenza così grande, no? se parliamo di un bacino d'utenza di 800 alunni questo significa che abbiamo alle spalle 1600 genitori e una decina di questi hanno partecipato al percorso ma va bene così anche se ce ne fosse stato solo uno in questo senso sento tantissimo che c'è bisogno da parte nostra, vostra di avere fiducia rispetto al fatto che è un percorso lungo di cui probabilmente coglieremo una parte dei frutti ma è un processo che ha bisogno di quotidianità, di parole, di incontri per essere portato avanti e questo non voler convincere nessuno che mi piace di questo progetto perché continuiamo ad essere screditati rispetto a queste tematiche da tante persone anche che vedono le cose in un altro modo ma di fondo c'è sempre qualcuno che ogni giorno si sveglia e mi è capitato da poco una persona che mi ha detto ho letto il libro di Truppiano in questo caso grazie a dottor Hammer, uno dei tanti insomma oltre al tuo di Mauro a quello di noi siamo il nostro corpo e mi ha detto mi è caduta una tegola in testa cioè finalmente ho capito che la mia non è una malattia e per me questi sono dei successi incredibili perché è una persona magari nel giro di un mese ma va bene è quello che per adesso ci possiamo aspettare negli altri report alcune docenti ci hanno detto che gli capita di parlare con i ragazzi in modo esplicito nelle classi di leggi biologiche in realtà esplicito nel senso parlando di sintomi guarda che è il raffreddore hai starnutito guarda perché, guarda che le mani sudate guarda perché e ragazzi quando si entra in questo ambito rimangono improvvisamente si crea un silenzio religioso e c'è una sete di questi argomenti che è clamorosa tanto che alcuni studenti in certe condizioni chiedono anche ma magari nel pomeriggio possiamo continuare a parlare di queste cose come la vedi questo fatto? cioè si potrebbe fare qualcosa per entrare direttamente con questi argomenti specifici ed espliciti? certo, scrivere un libro di testo scientifico che non parli di prevenzione come viene ora proposto all'interno dei libri delle scuole elementari o media per esempio i testi scientifici sono davvero figli del meccanicismo e siamo fermi lì certo perché c'è di fondo l'idea che le cose si approfondiscono più avanti ma in realtà non è vero che la vera scienza poi viene trattata alle scuole superiori all'università l'impostazione che viene data a parte che è un'impostazione sempre dualistica che parla della materia e che non parla di null'altro che di materia intesa semplicemente come tutto ciò che coi cinque sensi posso percepire il percorso scientifico parte all'elementare dai cinque sensi come strumenti di percezione e quindi già lì potremmo avere qualcosa di cui parlare sarebbe interessantissimo questo aspetto nel finanziare un progetto di riscrittura per esempio leggendo il libro di Lipton su biologia delle credenze ci sono delle immagini interessantissime per esempio sulla membrana cellulare sul vero cervello dell'essere umano che sono facilmente comprensibili dai ragazzi mi dicevo proprio questo riflettevo su questo rileggendomi il libro la seconda volta su come tutto questo sapere per esempio della memoria cellulare non sia assolutamente contemplato in alcun libro di testo quindi l'informazione estemporanea rispetto al raffreddore è attiva ed è interessante però a un certo punto io mi trovo nella difficoltà di non lasciare che sia estemporanea perché è un gran peccato il fatto che rimanga una discussione di un argomento sul quale siamo entrati in risonanza ed è bellissimo ce ne sono molti altri sui quali i ragazzi si attivano con facilità però qui probabilmente si potrebbe cominciare a pensare anche a ok e se noi pensiamo a un percorso davvero di contenuti che contempli quello che c'è ora di scientifico con tutto quello che di nuovo sappiamo rispetto a per esempio non so mi viene in mente il discorso dei cellulari delle onde elettromagnetiche che fanno male viene sempre relegato a la paginetta in fondo al libro a qualcosa che però non è collegato a tutto il resto oppure un altro aspetto interessante che non viene minimamente trattato è il discorso della della frattalità degli ambienti del fatto che c'è lo stesso tipo di organizzazione scendendo verso nel microcosmo e nel macrocosmo e oltre a dare una visione olistica finalmente di tutto ciò che esiste c'è proprio una sorta di ripetibilità che c'è che esiste e che non viene non viene contemplata leggere un libro di testo scientifico è deprimente anche perché è sempre organizzato in compartimenti stagni è proprio il fatto che ogni parte fa il suo quello che diceva Emilio del Giudice se prendo tutte le molecole di un gatto non è che c'è un gatto ma il libro di testo è un po' organizzato a molecole singole e l'insieme non è non si può leggere ecco non esiste un libro che abbia un sapore una sua identità perché manca a livello scientifico manca scusa tu stai dicendo noi potremmo fare un libro di testo cioè finanziarlo e poi chi lo adotterebbe questo libro eh ma nel senso tu come scuola parentale come in realtà parentale posso immaginarlo ma alle scuole pubbliche alle scuole pubbliche vengono proposti libri di testo a inizio dell'anno quindi ci sono dei rappresentanti che hanno un tot di case editrici eh più o meno importanti e questi testi vengono dati in visione agli insegnanti e gli insegnanti scelgono quale testo adottare e chiaramente sui vari libri di testo non so c'è un particolare metodo dell'italiano che io ho approfondito writing reading workshop che è un metodo interessantissimo le insegnanti che sono state un po' le pioniere in Italia di questo metodo eh hanno scritto diversi libri anche libri di testo che poi sono stati visionati e tanti adesso iniziano ad essere adottati all'interno delle scuole e quindi diciamo che c'è un percorso per arrivare a tutti i tipi di scuole no scuole paritarie scuole pubbliche eccetera e tutto questo è un aspetto è una grande falla del dei contenuti didattici proposti perché siamo ancora davvero forse a livello scientifico è l'aspetto più notevolmente mancante rispetto all'aggiornamento di conoscenze ecco un altro aspetto riguardo a questo è vederlo comunque in prospettiva no perché io la penso più facile per primaria e secondaria quindi le ex elementari e medie pensando a un percorso che prosegue no a livello superiori a livello accademico ecco va pensata forse in modo verticale questa cosa qui perché altrimenti è chiaro che è vero che non si butta via niente però un ragazzino che poi dalla terza media passa alle superiori e ritorna al vecchio paradigma ecco per esempio secondo me semplificare un piccolo percorso di filosofia della scienza a livello di scuola media è possibile nel senso che ci vorrebbe appunto una ci vorrebbero delle persone anche gli stessi anche noi stessi come insegnanti avere il tempo di farlo ma farlo come lavoro sarebbe comunque bellissimo quello di semplificare i contenuti di filosofia della scienza per capire perché leggendo un libro di filosofia della scienza come ho letto vita e natura di capra per cui hai un percorso storico dagli inizi ai giorni nostri ti rendi conto di dove ci siamo incagliati e di dove siamo fermi in questo momento e di tutto quello che segue e che in realtà non viene contemplato potrebbe essere interessante ma discutevo con una donna medico diceva che a medicina io non conosco adesso quale sia il percorso di studi ma un esame di filosofia della scienza mi pare che non ci sia a tutt'oggi è significativa questa cosa qui probabilmente gli studenti in medicina non si interrogano non conoscono non conoscendo appunto il percorso scientifico manca loro un pezzo per essere critici rispetto a questa a questo modo di presentare i contenuti sto prenotando Renati per i prossimi due anni perché praticamente non metteremo sotto a scrivere libri di testo solo che lui farà libri di testo per quinta superiore e università poi abbiamo bisogno di un traduttore come te che lo riduca alle medie sembra potentissimo iniziamo anche già dall'elementario a dare delle informazioni che il terreno assorde a Paolo l'avevo già proposto quando siamo trovati a Firenze io già quel convegno risonanze biologiche lì dicevo Paolo serve un libro di testo e scrive dovete scriverlo voi perché io non ce l'ho riesce a semplificare perché non vuole perdere passaggi però leggendo Lipton e ascoltando del giudice gli spunti per semplificare secondo me ci sono cioè io grazie alla lettura di Lipton sto capendo il primo livello di Paolo questo è uno spunto bellissimo Serena che ci hai dato e sicuramente cogliamo secondo me a braccia aperte adesso capire come strutturarlo anche per proprio per non come si dice lasciare che questo progetto a risonanze educative nelle scuole resti un bellissimo progetto o meglio al momento sono 5 bellissimi progetti che però se uno non va nel sito non va a vedersi i report non va a vedersi i video eccetera resta relegato a quelle realtà in cui l'esperienza è stata fatta invece poter mettere nero su bianco qualcosa che poi possa essere divulgato in maniera trasversale o verticale la direzione la vedremo strada facendo credo che sia una ricchezza incredibile insomma proprio un salto davvero evolutivo importante quindi grazie per questo spunto grazie a voi sì secondo me il discorso di filosofia della scienza non so adesso mi fa venire in mente si potrebbe regalare un libro di filosofia della scienza alle biblioteche dei vari istituti superiori per dire che sia l'impellenza del momento comunque il fare rete perché poi le persone che entrano nel mondo della scuola cioè banalmente nel nostro piccolo il fatto che ci sia qualcun altro che va alla scuola parentale fa sì che anche le famiglie si avvicinino a e quindi se tu proponi una scuola di tipo diverso che esce dal sistema completamente la maggior parte della gente segue la massa e quindi non possiamo aspettarci che poi la gente lo scelga perché è proprio un'impellenza la maggior parte agisce per imitazione ma questo si vede lo dice anche Gurdjieff non lo dico io però più lanci e più attivi verso questa è il pendolo energetico noi lì per esempio l'abbiamo creato cioè piano piano però già il fatto di fare formazione estiva rispetto all'anno scorso trac c'è già chi si è iscritto di default quasi in modo a critico perché siamo un pendolo cioè attiriamo le persone che ormai ci conoscono e quelle ne attirano altre e quindi questa cosa diventa sempre più stabile per cui è un po' quello che secondo me state facendo voi perché piano piano si crea questa sorta di interesse però ci vuole tanto tempo e sono tantissime direzioni insomma non so quale sia quella più urgente da prendere forse quella semplicemente di far conoscere questi progetti siccome se la nostra punta di diamante dell'imprenditoria questa cosa che mi è successa che ho raccontato nell'ultima riunione che sono andato a Bergamo in un posto dove c'era una scuola in una struttura storica di Bergamo con tutti gli archi tipo una scuola col peripatos come le università completamente finanziata da una fondazione quindi c'erano bambini piccolini fino agli adulti che fanno formazione professionale tutte le età e sono entrato dentro sto posto lo guardavo e dicevo se ci fosse ASA scritto qua sopra cosa faremmo come ci arriviamo a quella cosa lì perché esistono le scuole steineriane perché esistono anche anche Salute Attiva deve avere una sua scuola lo possiamo fare sì ringraziamo per i tantissimi spunti Serena grazie perché abbiamo un sacco di idee nuove è bello il tuo progetto e speriamo di rilanciarci anche con le risonanze biologiche per le scuole nel 2024 hai fatto un grande lavoro molto molto bello soprattutto hai lavorato con gli adulti forse sono la parte più difficile no è stato sì sono forse la parte più difficile da un certo punto di vista però poi quando entrano in risonanza è comunque coinvolgente ecco no grazie a voi perché mi avete dato questa opportunità l'avete data a me nel però darla a molti altri ecco perché gli spunti sono arrivati a tante persone grazie alla vostra sensibilità grazie quindi ai nostri sostenitori diciamo che hanno permesso tutto questo di realizzarsi esatto grazie davvero grazie a voi ciao a tutti ciao 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 Serena grazie ciao grazie a tutti